Siamo a Romics 2014 nello stand dei Pinguini di Madagascar e che dal 27 novembre al cinema ci allederà con queste simpaticissime animazioni. Siamo allo stand centrale del Romics e l'abbiamo già apprezzati appunto con Madagascar questi simpaticissimi ed efficienti Pinguini che stavolta saranno senza copertura. Inquadriamo qualche personaggio già intravisto in Madagascar prodotto dalla Dreamworks e appunto ci allederà nelle sale verso il periodo natalizio.